Ciao ragazzi, oggi è martedì, sono appena iniziate le spedizioni, siamo senza campi perché se ne tratta di quei tre giorni di pausa da lunedì al giovedì in cui aspettiamo i nuovi campi e andiamo subito su Graef, intanto sulla nostra gilda. Questa volta non devo raccogliere, a parte i militari, perché ho raccolto e messo la produzione, per una volta mi sono collegato anche al di fuori del video, raccogliamo subito i militari che ci fanno comodo. Ok, spassiamo subito i saluti. Ciao nemico, Serpro, Serpro è nuovo, non me lo ricordo, ciao Serpro, benvenuto, ciao Gerla, Anonimo, ciao Yeio, Liam, Anno, Elia, Leia, Discovery, Ernesto, Costruttore, Cristiano, Sciss, Geovax, Whitehood, è un progetto di Aguisgrana, fa sempre comodo, Betty la Sadica, La Rossarea, Michele, la Magnifica Nice, Tenshi, il Gognometro e Dovs, questo è nuovo pure, benvenuto da Ovs. Ok, e allora ieri era l'unedì, quindi ieri bisognerebbe aver espulso se ce n'erano dei pallini rossi, le persone inattive, andiamo subito a vedere qual è la situazione in gilda, non ci sono pallini rossi, c'è qualche pallino giallo, vediamo se sono stati espulsi o se semplicemente non c'erano, vediamo eventi di gilda, così, allora ci sono stati un po' di, ma questi sono tutti gli ingressi e le uscite, Teresa è entrata e uscita, Arcadia è entrata e uscita, Serpro è entrato, l'abbiamo visto prima, De Tizio è abbandonato, ci dispiace, Naspus è entrato al sito e Dovs è entrato, non è ancora uscito, almeno per ora, vedo che c'è un po' di movimento. Ok, quindi i pallini rossi non ce ne erano, vi dico subito una piccola novità, riguardo il mio Arc che tanto attendevo visto che non ero il futuro, finalmente ho tutti i progetti. Ecco tutti i progetti di Arc, adesso devo vedere per i beni perché mi manca qualcosa, ma insomma sono della mia era, o col commercio o con la produzione dovrei arrivare a averli e finalmente metto Arc un po' in ritardo e lo mettiamo. Qualcuno tempo fa mi chiedeva ma come mai la tua città è così indietro per essere del futuro, non hai corso troppo, io ho risposto sì, è vero, il problema è che questa città risale a tanto tempo fa, poi l'avevo abbandonata quando il gioco era molto diverso, non c'era Arc, o se c'era c'era da poco, non c'erano le spedizioni, non c'erano i campi, quindi sostanzialmente si correva per andare avanti di era. Ringrazio intanto chi mi ha dato i progetti, una mia amica, non credo che stia vedendo il video, però se lo sta vedendo lo sa e quindi grazie dei progetti che mi hai fatto avere un paio di quinte posizioni sul suo Arc. Andiamo a vedere i messaggi, messaggi di Gilda Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, purtroppo esco di Gilda ma ne serve una dove possa crescere più velocemente, sì ti capisco De Tizio, il nostro è un po' un esperimento, se vuoi crescere seriamente forse ti conviene trovare una Gilda più forte, grazie a tutti per l'aiuto, spero che ci incontreremo. Volevo sapere se qualcuno è interessato ai progetti di Zeus, vorrei portarlo sì, ma se non interessa scrivetemi, se Gilda ha nessuno interessa vedo questa cosa difficile, scrivetemi in privato, volete capire il funzionamento, adesso parliamo un attimo anche di progetti, di scambi, punti, volevo capire il funzionamento del doppio raccolto, devo spalcare qui sgrane, quindi chiudo io con i pf rimanenti e poi, che non ti devono chiudere di E, adesso, ah vediamo forse l'anno a spiegare, in pratica ogni volta che il GES sale a livello tu puoi raccogliere il rispettivo premio, questo fa sì, se durante il giorno ha già ritirato il premio, portandolo su di livello, lo fa ritirare di nuovo, in realtà tu devi chiudere il livello subito dopo aver raccolto, quindi tu hai appena raccolto, chiudi il livello, raccogli immediatamente, fai in sostanza due raccolti di seguito a distanza di pochi secondi, questo è il senso del doppio livello. Concluso le missioni dell'evento, benissimo Leia, anche io, benissimo Nonimo, Michele non ce la fa, ok, allora parliamo un attimo di punti e di scambio punti, effettivamente lo scambio punti è il modo in cui si cresce, secondo le mie indicazioni, nei video, anche qui ne ho parlato, non ricordo neanche se c'è una chat per cercare chi fa scambio punti, forse non c'è, non c'è però chi fa scambio punti si può chiedere in una chat, anche nella chat principale di Gilda, nella chat che c'è, una chat argomenti vari, non mi ricordo, forse anche qui fra le social, no, qui fra le social non c'è, forse dobbiamo aggiornare qualche chat, non c'è neanche una chat argomenti vari, ah qui Betty lo diceva anche qui, non l'ho eliminato per provare scambio di 100 punti, come spieghi tu, vediamo cosa funziona, hai eliminato che cosa? Ah il messaggio, ok, non ho capito cosa è lo scambio punti, è solo un giocatore che fa lo scambio, ho riacchiuto gli eseri senza essere intervenuti, no, 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 assolutamente, allora o fai scambio con più giocatori, ma anche con 5 volendo, se hai abbastanza punti, in maniera che dai tutte le posizioni con lo scambio punti, o se no, se fai lo scambio con uno, non ti deve assolutamente mettere tutti i punti in modo che perdi altre posizioni, quando rimangono i punti che le posizioni sono coperte, le offri su posizioni coperte, prendiamo proprio un esempio pratico, grandi edifici, prendiamo il tuo Zeus, ecco, io adesso immagino che tu stai facendo scambio punti con Michele, che ti ha messo questi 40 punti, questi 15 punti te li ha messi d'orso, quindi in sostanza anche la seconda posizione è coperta, Cristiano, beh, adesso sono rimaste solo posizioni con solo progetti, quindi in realtà quando stai per chiudere fai prendere a un punto soltanto, no, sono nemmeno progetti, qui sono solo medaglie, quindi a questo punto puoi chiudere tranquillamente e puoi far chiudere da Michele, anche perché non ha il doppio raccolto, però supponiamo che ci fossero soltanto i punti, i 40 punti di Michele, per la seconda posizione servono 5 punti, quindi tu dici a Michele di fermarsi quando è arrivato a 90 su 100, quando è arrivato a 90 su 100 la seconda posizione è coperta e quindi la puoi offrire su posizioni coperte, c'è la chat apposta posizioni coperte, ecco, quando tu stai 90 su 100 metti qui Zeus e dici per la seconda posizione quanti punti erano? 10 mi sembra, comunque ho 5, 5 quelli che prendono e qualche giocatore te la mette, poi fai lo stesso con la terza posizione, non devi assolutamente perdere le posizioni sì, non dovete creare altre chat, perché non va bene, non va bene, se no si crea confusione purtroppo il nuovo, la nuova tipologia di messaggi non funziona, non permette di bloccarlo e quindi dovete non farlo voi, questo immagino che l'ha aperto sempre, sempre devi eliminare questa chat, le chat di gilda non devono essere create dai singoli giocatori ok, creiamo però adesso creo direttamente una chat argomenti vari perché mi sembra che non c'è, mi sembra strano che non l'ho fatta perché la faccio sempre ah, anche qui, quante, quante ne hai, ne hai create? se ogni gildano comincia a aprire, aprire chat, ci ritroviamo con 20.000 chat e non ci si capisce più niente, ok, allora creo un paio di chat che effettivamente mancano, quello di creare come chat di gilda, copiamo il nostro simbolino da un'altra chat argomenti vari qui si possono fare anche due chiacchiere, mettiamo il caffè per capire che è un po' vabbè, troppi caffè, ce ne bastano tre qui si può parlare a scritto tutto maiuscolo, qui si può parlare di qualunque argomento lecito, 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 quindi chiaramente bisogna evitare tutto ciò che nel regolamento di FOI non è ammesso, quindi insomma lo sapete di che cosa si può parlare e di che cosa non si può parlare, se non lo sapete andate a leggere il regolamento FOI, ok, poi creiamo un'altra chat per chi vuole fare lo scambio punti ricerca, scambio punti questa chat può venire utilizzata per cercare un partner nello scambio punti ok a proposito di scambio punti, in realtà vedete io sono un po' bloccato perché adesso sono riuscito a trovare i progetti di ARC col fatto che mi collego poco, motivo poco, non ho mai nuovi progetti, quindi anch'io in realtà avrei necessità di fare scambio punti e possibilmente vorrei fare scambio punti con qualcuno che ha Alcatraz perché avrei bisogno di trovare l'ultimo progetto per Alcatraz quindi se qualcuno, e se no se nessuno ha Alcatraz, anche altri edifici militari di CDM i progetti ce li ho, almeno alcuni, gli acquisti Granapure, quindi sarebbe importante Alcatraz Alcatraz probabilmente ce l'hanno molto poco in Gilda vediamo chi c'ha Alcatraz Gilda Gilda Comunque al limite si può fare anche con altri edifici, quindi se qualcuno è disposto a fare scambio punti con me possiamo fare scambio punti e mi collegherò tutti i giorni almeno per lo scambio punti in modo da poterlo fare in maniera decente lo segno subito, allora allora, se qualcuno vuole fare scambio punti con me segni qui ho i miei contatti in privato privato fino a un certo punto perché poi i messaggi li leggo comunque pubblicamente su YouTube quindi è un privato molto relativo possibilmente vorrei versare su Alcatraz ok e quindi abbiamo parlato di scambio punti andiamo a vedere torniamo sui messaggi qui abbiamo visto andiamo sul mercato le offerte sono state prese bene giro dei beni anche vedo che comincia a funzionare regolarmente tesoreria fate donazioni io in generale quando sblocco le spedizioni dono i beni che mancano se mi ricordo lo segno anche qui se non neanche lo segno quindi ecco non faccio donazioni così saltuarie quando capita impalcature mi servono i progetti grazie per l'aiuto a spalcare in realtà questo edificio ormai è troppo alto di livello no? ma quando si tratta di impalcatura i progetti non si prendono perché a livello 0 anche il primo premio non da progetti ma da soltanto punti quindi le impalcature sarebbero fatte proprio per aiutare a sbloccare il livello 0 e a mettere il grande edificio andiamo sui social con Betty abbiamo letto poi Betty se vuoi puoi anche tu fare scambio punti con me provo a fare lo scambio punti se hai possibilità possiamo fare tu che edifici hai vediamo se hai edifici ah tu hai soltanto Zeus ma eventualmente potremmo farlo anche su Zeus eventualmente posso farlo anche con un paio di giocatori fatemi sapere cbvv non so voi chi fanno direttamente su youtube ci sono anche agli spoiler della venus era sempre su youtube di gioco spring event mi è uscito il nuovo edificio dell'evento e sembra la protezione per l'esercito d'attacco come se ho scritto venus era forza e dominio mi è uscito anche il video di gioco di gioco spoiler allora questo che mi dice è interessante ma molto strano molto strano perché siccome l'era di venere non è ancora uscita neanche nel server beta se qualcuno ha delle informazioni le prende dall'era non dalla beta ma dall'alfa addirittura che sarebbe una beta riservata soltanto a poche persone che aiutano a sviluppare e secondo le indicazioni di no games è vietato dare informazioni di questo genere quindi questi video youtube non sarebbero autorizzati e insomma approfondiremo questo discorso però ecco tenete presente si tratta di spoiler ma si tratta comunque di cose non autorizzate io per i miei video youtube ho chiesto autorizzazione a i no games e mi hanno mandato una nota in cui in sostanza hanno autorizzato però hanno specificato che non si è autorizzati a dare informazioni che prese dalla beta non pubblica quindi quel server beta pubblico dove sto io si ma il server beta avrei quell'altro no quindi non so queste notizie se vengono da qualcuno interno da qualche sviluppatore ma non dovrebbero a rigore essere diffuse secondo gli accordi secondo le regole di no games ok mi sembra che sono finiti i messaggi allora adesso volevo vedere per qui devo mettere la produzione questo mi ha sfuggito volevo vedere per arc per arc abbiamo detto che è un problema di beni e allora andiamo se vi ricordate io ho un file per il mercato che utilizzo quando devo fare scambi questo è il file forse ve lo ricordate ho fatto vari video anche allegato posso dare la possibilità di scaricarlo questo video e vediamo allora i beni che mi servono per arc e vediamo i beni che ho di quell'era cioè l'era sarebbe il futuro allora per arc mi servono 350 dati biogeochimici allora andiamo sul futuro cancelliamo queste sono le offerte di mercato che avevo messo tanto tempo fa le possiamo eliminare magari scriviamo qui prima quanti beni vabbè scriviamo prima quanti beni s'erano 350 biogeochimici e 450 acqua allora biogeochimici 350 acqua da mineralizzata 450 qui che fa è partito skype penso ho cliccato no si stava partendo skype ok poi abbiamo 300 alghe e 400 superconduttori 300 alghe e 400 superconduttori mancano le nanoparticelle 375 nanoparticelle ok adesso qui segniamo invece i beni che abbiamo cancelliamo questi che erano quelli della volta precedente li possiamo prendere anche da qui i beni che abbiamo ma magari andiamo però sul mercato direttamente allora alghe 737 e quindi mi bastano beh li produco dati biogeochimici 677 anche questi li produco gli altri mi mancheranno chiaramente nanoparticelle 215 acqua da mineralizzata 265 e superconduttori 167 allora vediamo subito che mi mancano questi tre beni nanoparticelle acqua e superconduttori ne ho invece in abbondanza di questi altri però in totale facendo la media di quelli che ho e quelli che mi mancano in totale per ogni bene ne ho 37 ne ho 37 positivi quindi se io riesco a fare gli scambi potrei tranquillamente mettere in palcare subito arc e allora vediamo salviamo questo file andiamo subito a vedere se qualcuno vuole alghe e dati biogeochimici in cambio mi da quegli altri beni alghe no per alghe mi danno beni di altre ere non mi interessano dati biogeochimici stessa cosa quindi niente vediamo comunque se qualcuno mi desse anche per altri beni i beni che mi mancano nanoparticelle no c'è soltanto il mercante acqua stessa cosa e superconduttori stessa cosa quindi devo fare io le offerte allora faccio offerte in maniera tale che arriverò ad avere 37 di ogni bene 37 di ogni bene cominciamo qui ho 400 alghe magari facciamo così quindi ho quasi 300 i dati biogeochimici faccio 100, 100 e 89 di quello che ne ho di meno quindi 100 dati biogeochimici per acqua di mineralizzata e superconduttore biogeochimici per di mineralizzata e per superconduttore ok segniamo le offerte che abbiamo fatto 100, 100 per meno 100 meno 100 sono quelli che che ricevo e questa sarà la situazione dopo che ho fatto questi scambi mi mancano ancora 85 acqua di mineralizzata vediamo però mi sono rimasti da da dare 90 dati biogeochimici e li diamo per per le nanoparticelle quindi qui mettiamo 90 biogeochimici per nanoparticelle ok vedete i biogeochimici sono rimasti a 37 beni che è quello a cui devo arrivare perché mediamente ho 37 dopo levati questi che mi servono per ARC mi rimangono 37 beni per tipo quindi se dopo questi via tutti questi beni fanno questo scambio mi rimango 37 oltre ai 350 che mi servono per ARC a questo punto abbiamo qui il commercio qui ho 400 beni e qui 400 che mi mancano quindi devo fare che bene abbiamo adesso qui abbiamo nanoparticelle quindi per nanoparticelle me ne servono 107 che sarebbero le 70 che mi mancano per mettere ARC più le 37 che mi devono rimanere quindi faccio 107 ALG per nanoparticelle 107 ALG per nanoparticelle ok poi 122 ALG per acqua demineralizzata ALG per acqua demineralizzata ok e 170 o 171 ALG per superconduttore magari facciamole in due volte forse cominciano ad essere troppe facciamo 100 e 71 ok 171 ALG per superconduttore per superconduttore vedete che se mi prendo tutte queste offerte rimango con 37 beni di ogni tipo 38 di superconduttore più i beni che mi servono esattamente per ARC quindi speriamo che la prossima volta al prossimo video mi avranno preso tutte queste offerte verifichiamo che le offerte siano tutte eque tutte per uno a volte per errore uno fa offerte diverse e quindi commerciando dati biogeochemici ALG che sono i beni che produco e di cui ho il bonus mi danno tutti gli altri beni e potrei mettere ARC e quindi ad ARC abbiamo pensato dovremmo trovare anche lo spazio come stiamo espansioni ah vedete qui ho un'espansione la possiamo mettere tranquillamente qui andiamo a completare questo questo angolino che manca un po' di di spazio e per la prossima espansione mi servono 160.000 medaglie ne ho solo 23.000 quindi ci vorrà tempo forse forse potrei prendere le medaglie nella mappa continente le medaglie le espansioni nella mappa ARC c'è proprio un'espansione qui non sarebbe male ah mi manca soltanto una provincia e questa cerchiamo di prenderla cerchiamo di prenderla attacchiamo questi di che era sono? sono dell'era contemporanea sono anche dell'era prima gli elicotteri d'assalto devo fare attenzione che non possono essere colpiti dall'artiglieria io metto tutti non metto artiglieria ah no se no posso mettere anche l'artiglieria perché questa artiglieria è un'artiglieria è un'artiglieria particolare che ignora le abilità difensive dei molte credo anche questa degli elicotteri d'assalto proviamo mettiamo 3 cannoni a rotaia l'artiglieria e tutti i cannoni normali tutti i cannoni normali si attacchiamo vediamo se riusciamo a prendere anche questa espansione allora va bene cominciamo ad attaccare subito gli elicotteri li ho fatti subito fuori quindi nemmeno facciamo la prova con l'artiglieria e con l'artiglieria colpiamo i carri armati notate che questi carri armati del futuro sono molto importanti a volte si utilizzano anche in aree successive perché si nascondono in pianura quindi in totale sono sempre nascosti e attacchiamo questi carri armati vedete loro attaccano l'artiglieria perché i carri armati sono nascosti non possono colpirli comunque abbiamo praticamente vinto la battaglia ok ah c'era un'altra battaglia non me lo ricordavo facciamo manuale anche questa arrivano i paracarodissi i paracarodissi se non sbaglio sono della mia era non sono sicuro no forse no ok allora facciamo subito fuori questi paracarodissi che stanno troppi vicini per i miei gusti facciamo fuori gli elicotteri vedete che lo posso colpire con l'artiglieria perché l'artiglieria nonostante loro non possono essere colpiti dall'artiglieria l'artiglieria del futuro ha questa caratteristica e quindi posso colpirti uguale adesso colpiamo questi carri armati vedete colpisco solo l'artiglieria perché i carri armati sono nascosti in pianura vediamo se facciamo il tempo a farli fuori tutti quanti o se gli lasciamo un colpo ci prenderemo ancora qualche colpo infatti hanno ucciso un'artiglieria l'abbiamo quasi fatto ok abbiamo vinto la battaglia abbiamo preso l'ultimo settore della provincia e prendendo l'ultimo settore abbiamo preso un'espansione ah e abbiamo anche finito la mappa continente questa che era la mappa del che cos'era lo vediamo dell'età contemporanea quindi con questa nave accediamo dopo l'età contemporanea viene il domani stiamo un po' indietro qui nelle mappe quindi abbiamo il domani per poi arrivare al futuro forse dobbiamo piano piano cercare di andare avanti nella mappa continente tanto a truppe dell'era successiva non dovrei avere problemi con un giorno arriverò la nuova mappa e andremo avanti intanto ci siamo guadagnati un'espansione vedete si vede proprio che era una città abbandonata neanche la mappa continente neanche le espansioni e la mettiamo qui e qui abbiamo forse giusto lo spazio per Alcatraz no perché è 3, 5 per 6 Alcatraz mi sa che è 6 per 8 o qualcosa del genere andiamo a vedere Alcatraz ehm 7 per 5 qui per poco non ce la facciamo ma in realtà potrei tranquillamente levare una strada perché se levo questa strada qui ah no se levo questa strada non arriva proprio Alcatraz eh dovrei levare questa strada e mettere una strada corsia singola tanto questi hanno comunque la strada doppia corsia che gli arriva no qui non gli arriva questo dovrei spostarlo qui allora eh insomma si forse si riesce poi vediamo quando quando impalchiamo comunque se non c'è qui lo spazio leviamo qualcosa e lo facciamo ok e oggi facciamo un video un po' diverso dal soli sono un po' di cose nuove e un'altra cosa che volevo fare è oggi l'evento l'evento mancano soltanto un giorno 18 ore siamo sostanzialmente arrivati alla fine vediamo se facciamo anche questa missione 5 avvenimenti questi avvenimenti ah sono arrivati questa volta l'altra volta non li avevo trovati se vi ricordate quindi avevo rinunciato alla missione allora hai fatto meglio a fare prima le missioni perché ho raccolto ho fatto tutto ecco comunque questa missione è fatta qui scegliamo pure la missione giornaliera scegliamo i furfanti allora visita 15 taverne e ottieni i materiali ma i materiali adesso non facciamo in tempo le taverne magari le esploriamo i materiali prossimamente potremmo farlo 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 e 15 ma prendiamo pure marico sanne che è rimasta da sola qui davanti in mezzo a tutti quelli in cui sono andato in taverna quindi le taverne le ho visitate bisogna ottenere questi materiali ma forse potrei anche ottenerli levando questo per esempio non l'avevamo messo soltanto per una missione vediamo ah mi da pochissimi materiali non vale non vale la pena fermiamoci qui allora e andiamo invece allora nell'evento vero e proprio oggi c'è un premio abbastanza interessante il colosso l'altro premio che forse dovrebbe ancora uscire importante alla tesoreria olimpica se fanno come nella beta che è uscito 3 volte vediamo se io ho colosso ho già due kit del colosso e di tesoreria nessuno quindi cerchiamo di prendere il colosso anche se non due sole ci servono 10 del colosso per metterlo al massimo livello servono 10 kit al massimo livello è un buon edificio perché vi da vedete il 13% di attacco 6 punti forge e vediamo se riusciamo a prendere un po' di un po' di aggiornamenti allora in un altro video vi avevo spiegato come scegliere questi giocatori intanto siccome io punto non al premio finale ma al premio del giorno metto l'allenatore del premio del giorno che è questo da un 5% in più di possibilità di prendere il premio del giorno e lo vedo qui questo 5% e poi devo scegliere i giocatori secondo una lista che mi dice quali sono quelli in cui è più probabile a parità di palloni prendere il premio cioè questo 104 palloni mi da il 17% di prendere il kit colosso questo solo 48 palloni ma mi da il 10% quindi in proporzione si fa un calcolo e si vede quale è convenente comunque io ho l'elenco di tutti i giocatori che li ho fatti vedere l'altra volta fra questi tre Brad Scott e Ryan conviene Scott se vi fate i conti ve li leggo ve li leggo rapidamente nell'ordine però in un altro video in altri video ho preso il touchdown allora sono nell'ordine una volta che avete messo questo allenatore i giocatori per avere in più probabilità il premio finale sono Anthony Samuel Greg Scott Kyle Carlos Noah Brad Issa Justin Ryan e Brian quindi in sostanza i primi che ho detto sono sempre migliori qui per esempio prendono Anthony che è il migliore in assoluto migliore perché vuole solo 41 palloni con 41 palloni dare il 10% di probabilità è buono qui se non sbaglio è Kyle sì esatto Kyle io ormai ho imparato a memoria quali sono i migliori qui che abbiamo Carlos Brian e Scott il migliore Scott mediamente con 4-500 palloni si dovrebbe avere una specialità del giorno io ho 500 palloni un po' li ho consumati quindi almeno un'altra dovrei averla Anthony è il migliore qui che abbiamo eh Brad Justin e Carlos Carlos non è un gran che ma è il migliore degli altri due poi Ryan Scott e Noah e il migliore è Scott ecco ho avuto il kit vedete vediamo se riusciamo ad averne un altro Samuel eh dopo Anthony è il migliore il secondo nell'ordine qui abbiamo Isaac e Brian e quindi è Kyle il migliore Carlos Noah e Scott il migliore è Scott fra l'altro se non prendiamo il premio ci dà le medaglie che ci servono per l'espansione infatti 12.000 qui abbiamo Anthony qui abbiamo due migliori abbiamo sia Anthony che Samuel però non ho preso niente Brad Ryan e Carlos e prendiamo Carlos ancora un progetto qui abbiamo Kyle penso no abbiamo Greg che è migliore di Kyle ok ah non ho abbastanza palloni quindi abbiamo finito qui quindi abbiamo preso quanti ne abbiamo presi? due più uno che ne avevamo ne abbiamo tre con tre non credo di avere una base quindi devo usare il kit anche per la base quindi di fatto arriverei a livello due no arriverei a livello tre non due perché uno lo metto alla base e se è livello uno poi livello due e livello tre livello tre mi da un punto forza non vale non mi da nient'altro non vale assolutamente la pena metterlo però nel frattempo vedete con i premi che ho vinto ho preso questi materiali che mi mancavano quindi ho altri 100 palloni e possiamo possiamo fare ancora un tentativo con un po' di fortuna di questi il migliore è Greg niente ancora un altro Samuel e niente siamo rimasti con 9 palloni e ci fermiamo qui ricordatevi anche di prendere sempre gli incidenti vedete 200 palloni l'ho detto così tanto per dire invece ho preso 200 palloni allora andiamo ancora avanti qui abbiamo Anthony che è il migliore qui abbiamo Greg Greg e Scott mi sembra che è meglio Greg si è meglio Greg ancora niente qui abbiamo Anthony forse ne facciamo un altro niente ancora 65 monete prendiamo Samuel Samuel il secondo con 60 palloni palloni non monete niente e ci fermiamo anche sull'evento qui abbiamo fatto andiamo sull'insediamento raccogliamo qui ho già raccolto quindi abbiamo soltanto le case non abbiamo vediamo qual è la situazione espansioni no ci serve l'idromele per le espansioni e quindi dobbiamo aspettare non abbiamo abbastanza asce quindi dobbiamo mettere le asce per produrre l'idromele e l'idromele insomma ci vorrà un po' di tempo piano piano allora abbiamo detto che sui campi non abbiamo niente però non abbiamo visto neanche la classifica abbiamo guadagnato 25 punti Lega siamo andati benino insomma siamo stati quarti vediamo la classifica attuale qui avevamo una chat sulle classifiche io poi mi dimentico di di riempirla vediamo quando è ferma la chat delle classifiche ferma al 19 quindi forse proprio all'ultima alla fine degli ultimi campi mi segno qui su un foglio quanto siamo ah no questi sono quelli di adesso adesso devo andare a vedere qui nella graduatoria graduatoria rigilde siamo 164 prestigio 10.834 e livello 28 allora alla 166 siamo aumentati di due posti non di tanto però un pochino sì il livello non è aumentato più stico avanti è più è lento ad aumentare il livello 2 febbraio classifica 164 prestigio 10.834 prima era 10.384 834 si invertono i numeri e il livello e il livello sempre 28 ok torniamo un attimo alla gilda e al livello ecco vedete c'è il livello ah no per fritto 128 no 28 manca pochissimo al livello 29 con il livello 29 che cosa succede oltre ad aumentare il prestigio che ci potrebbe far salire un po' in graduatoria e il bono di supporto che serve solo per il gvg passiamo ad una riduzione invece del 14 il 16% della riduzione dei tempi per arruolare e curare unità abbiamo già 3 punti vediamo dal municipio vediamo quando è che arriviamo a 4 per arrivare a 4 dobbiamo arrivare al livello 34 ci vuole ancora un po' di tempo vedete qui dal municipio da 4 punti perché sono i 3 punti che ci da il nostro livello di gilda e in più io ho un emissario che mi da un punto ok e allora abbiamo detto dei campi abbiamo detto della classifica rimane da vedere le spedizioni eh qui sono da solo l'insediamento stanno vicini sempre nave nave mi sbaglio sempre andiamo sulle spedizioni siamo terzi vediamo se abbiamo gilde dure beh insomma la prima è molto molto dura Creeping Death è una delle gilde più forti di Snagak se ci mettono gilde forte significa che stiamo diventando forti dunque noi abbiamo beh abbiamo un solo oro un oro però abbiamo avuto alla fine l'oro complimenti a tutti un oro 9 argenti e 3 bronzi loro hanno 109 ori 10 argenti e 0 bronzi quindi è difficile diventare primi difficile anche diventare secondi una situazione analoga e diciamo puntiamo a mantenere il terzo posto vediamo la situazione dei vari giocatori parecchi hanno già contribuito io invito tutti a partecipare e fate almeno ve l'ho detto tante volte i primi due step che si fanno negoziando solo con beni immateriali con no con beni immateriali con monete immateriali neanche beni servono qui ormai ho detto tante volte come si fanno queste negoziazioni e quindi la faccio rapidamente senza starmi a ripetere qui abbiamo fatto se va bene ci guadagniamo i due punti forge è andata bene qui negoziamo ancora stessa cosa le prime tre si negoziano la quarta si combatte e poi si negoziano altre due ok due li abbiamo fatti vedete come si fanno con semplicità i primi due il terzo si può negoziare uguale con semplicità anche se ci chiede qualche bene prima mettiamo le monete poi materiali e poi solo dove necessario e beni non è stato necessario perfetto qui dovremmo prendere un'unità militare cannoni a rotaia qui si combatte il quarto step si combatte ok il quinto si negozia il quinto ha tre beni materiali e un cioè monete materiali e un bene quindi esattamente come il terzo ci ha chiesto il bene in tutti e due gli slot e quindi i beni sono due ok due tentativi quindi qui facciamo ancora una negoziazione con lo stesso criterio quindi qui facciamo ancora una negoziazione con lo stesso criterio ok questo l'ho preso qui combattiamo andiamo avanti con i due tentativi che abbiamo guadagnato possiamo fare un altro paio di battaglie ancora due tentativi ancora due tentativi e a questo livello al primo step è abbastanza facile mettono le truppe quasi a caso molti cannoni qui abbiamo una reliquia gialla speriamo che siano i 100 punti forze una fiamma rituale ok andiamo avanti con le nostre battaglie qui è un po' più difficile perché abbiamo due ondate ok e abbiamo finito i tentativi quindi qualche tentativo possiamo comprarlo ma i primi tentativi costano davvero poche medaglie poi vanno sempre più aumentando i costi vorrei riuscire a finire il primo step se mi bastano le truppe forse ce la facciamo acquistiamo un altro ne acquisto uno solo perché se poi mi finiscono le truppe è inutile che acquisto il secondo ok e acquistiamo l'ultimo tentativo 200 medaglie ok ok almeno ho dato anche io il mio contributo ho finito il primo livello delle spedizioni raccogliamo che abbiamo ancora qualche incidente 50 palloni vediamo se ci bastano per fare un altro un altro tiro beh con Kai ci basterebbero Noah e Carlo si di questi Kai è il migliore allora facciamo la prova un carro a due carri armati va bene penso che ci possiamo fermare qui allora 11 punti 11 punti li mettiamo su Zeus li stavo mettendo qui le posizioni sono prese 10 139 6 10 5 punti mancano proprio le ultime posizioni ok qui mi si è bloccato tutto a volte me lo fa questo programma e quindi non posso tornare alla visualizzazione a tutto schermo a meno che non ci ha già tornato non so dirvelo io non vedo più niente però ormai so da esperienze precedenti che il video comunque non si perde ciao a tutti alla prossima vediamo se riesco a chiudere e vi saluto vediamo